A Barletta è stato il giorno di Edoardo Bennato in piazza Aldomoro, protagonisti i brani storici del cantautore che hanno fatto ballare, cantare e sognare intere generazioni. Tanti i successi di ieri ma spazio anche ai nuovi brani per una serata spensierata all'insegna di una quasi ritrovata normalità. Insedito nel cartellone una storia d'amore palinsesto unico estate 2021 promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il teatro pubblico pugliese, il concerto di Bennato è stato un evento sold out già da settimane a causa del numero di posti illimitati come da protocolli di sicurezza anti-covid. Anche il primo cittadino Cosimo Cagnito sui social parlando dello spettacolo ha scritto Il mio auspicio è che il covid sia ben presto un vecchio ricordo affinché tutti, ma proprio tutti, possano tornare a divertirsi e a godere dei nostri eventi e dei nostri artisti. Intanto domani sera un altro grande appuntamento con il noto attore teatrale e cinematografico Giorgio Pasotti alle prese con lo spettacolo Io, Shakespeare e Pirandello. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!